Il Partito Democratico si ritrova per la sua festa a Catanzaro, ma riflette soprattutto su alcune emergenze e anche sulle criticità interne e lo fa con Cesare Damiano, già ministro e attuale presidente della Commissione Lavoro della Camera ed a proposito di lavoro è stato questo uno dei temi principali con particolare riferimento ai giovani. Noi avremo tra poche settimane una discussione al Parlamento sulla legge di bilancio. Per noi la centralità deve essere dedicata alla crescita del Paese, al sostegno e all'occupazione soprattutto giovanile. Si è parlato quindi anche di legalità, ma come detto è stata anche una festa per l'unità del Partito a pochi mesi dalla fine della legislatura. Il PD deve essere ovviamente un partito che trova l'unità al suo interno con un coinvolgimento di tutte le anime. Mi auguro che Renzi abbandoni la strada del sono solo il comando e scelga il gioco di squadra. E poi noi dobbiamo cercare delle alleanze, soprattutto a sinistra, formare un campo largo di centro-sinistra. Per farlo però bisogna che non ci siano atteggiamenti settari né dentro il PD verso chi non è del PD e sta a sinistra del PD e anche per quanto riguarda il partito che sta alla sinistra, quindi articolo 1, che non deve avere pregiudizi nei confronti di Renzi e del PD. Insomma, battere gli opposti estremismi e costruire dei ponti di comunicazione che abbiano al centro i programmi.